Ciao sono la dottoressa, Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. Preservativi stimolanti Luxe EXO, gli Coyote Grey Hard, 52 mm EXO è la nuova linea di preservativi stimolanti del marchio Luxe. Unici nel loro genere, i preservativi stimolanti Luxe EXO si distinguono per i rilievi e le protuberanze sulla parte superiore del preservativo. Coyote Friend Grey Hard ha una doppia fascia di stimolazione per un effetto ancora più intenso. Una fascia di rilievi di colore blu appena sotto il serbatoio è seguita da altre protuberanze rosse a punta collocate in cima alla punta. Una doppia stimolazione quindi. I rilievi sulla punta garantiscono una stimolazione accentuata in profondità, i rilievi invece alla base del serbatoio, ad ogni spinta, stimoleranno le pareti sensibili della vagina femminile. Scopri il piacere di Enzo Cocchi Friend Grey, hard e porta buio sotto le lenzuola. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace, a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato. Grazie a tutti.